Francesco qui siamo alla fine, fai qualcosa? E' quanto dice in un video di cui oggi è stata diffusa un'anticipazione uno degli operai della Lucchini di Piombino. Il video curato da Klaus Davi e dalla CGL Toscana sarà consegnato al Papa, ma anche a tutti i deputati, senatori, nonché alla Presidente della Camera, Laura Boldrini. Nel video alcuni operai della Cioieria di Piombino si appellano al Santo Padre affinché salvi dalla morte la loro impresa. Si parte da Paolo Tempini che supplica, gradirei, vorrei, pregherei che il Papa intercedesse per le acciaierie. Poi c'è anche Andrea Galli che chiede a Papa Francesco di prendersi a cuore la vicenda, siamo disperati, non c'è persona migliore. Dario Gianneschi afferma, Francesco qui siamo alla fine di un percorso e chiede al Pontefice di prendere in mano la situazione e coinvolgere tutte le parti politiche. Giuseppe Garito chiede a Bergoglio di pregare anche per noi perché saremo i nuovi poveri del futuro, saremo i disperati. Poi Salvatore che ammette che una parola di conforto da lui sarebbe importante per tutti. E si chiude con Francesco Masangui che auspica una preghiera per una zona che rischia di morire e 4.500 persone che rischiano di essere mandate a casa, una bella fetta di patrimonio culturale e lavorativo che se ne va. Intanto un operaio di 54 anni, Paolo Francini, ha annunciato oggi in una lettera inviata alla stampa uno sciopero della fame per due giorni davanti ai cancelli dello stabilimento per chiedere un intervento diretto del governo per mantenere in vita l'alto forno. Dalla metà della prossima settimana, mercoledì o giovedì esaurito il minerale, l'alto forno cesserà di colare, sarà caricato in bianco fino alla sua fermata definitiva che avverrà tra 20 o 30 giorni. Io ho 54 anni, dal 1980 lavoro in quello stabilimento, adesso non me la sento proprio di trascorrere il periodo di Pasqua a casa, tra colombe e scampagnate, come se nulla stesse accadendo, scrive nella lettera Francini. Ho deciso quindi di trascorrere questi giorni davanti alla portineria della Lucchini.